Cari Giddens fuori per Varda Moturao, far saltare Ezze questa volta, appoggia al vetro ma non va a bersaglio, battaglia a Cerima per il rimbalzo, vinta proprio da J.R. Giddens, i primi punti in Eurolega per J.R. Giddens. Sì, porta a casa due punti da un rimbalzo d'attacco, però prima nella situazione di uno contro uno l'Enfield ha avuto davvero benissimo. Ezze invece... Dunque è rimasto, rimane lì a portata anche se questa palla è ancora nelle mani del Kimki, il palleggio da parte di Zaitsev, poi Fridson vuole Planinic, grande anticipo questa volta da parte di Giddens, due contro uno con Giddens e Ewing, fa da solo Giddens, va fino in fondo, meno cinque Procom. Bravo. Ora per il Procom il leader è Daniel Ewing con sette punti, sono sei invece quelli di Giddens che va a cercare di completare questo gioco da tre punti e va a trovare il canestro. Prova Wicks a gestire questo pallone dal postalto, mette palla a terra, attacca, poi si prende l'arresto e tiro, J.R. Giddens risponde molto bene, anche lui dalla linea di fondo, il Procom torna meno un po' Varda, Planinic va nell'angolo da Fridson, bravo a saltare con la finta, Giddens spaglia però da distanza, tutt'altro che impossibile il numero 7 vitale Fridson, rimbalzo conquistato dallo stesso Giddens che aveva saltato sulla finta. Poi Ewing prova ad attaccare Fridson che lo tiene però lontano da canestro, ancora ci riprova Ewing questa volta contro Eze, li gira intorno ma sbaglia la conclusione anche perché Eze comunque rimane lì con il suo fisico. Il contropiede gestito da Langford, giro sul piede perno a 3,60, poi lo scarico esterno per Monia, Planinic ancora sotto da Eze, anticipato molto bene quest'olta da Giddens, un po' pigro però. Il passaggio dell'ex Zesca può ripartire il Procom con Giddens che va a scambiare con la peta, il blocco di la peta per lo stesso Giddens. Il Kim che ha giocato finora una gara di campionato, l'11 ottobre, ha battuto l'Eni 6,77 a 68, poi ha giocato questa nuova United League, questo campionato che mette insieme i paesi dell'est Europa, perdendo con lo Jalgeris con il punteggio di 75 a 69. Dentro Giddens, canestro e fallo per l'ex Celtics Enix, il fallo è di Langford e il Procom si riporta a Minotto in attesa del tiro libero del giocatore americano. Sì, Giddens è un bel giocatore, gioca un pochino da solo, questo è da vedere se gioca da solo perché lui gioca in questo modo o perché è appena arrivato e quindi non conosce ancora bene gli equilibri della squadra e si fida più delle proprie qualità. Il Kim che ha giocato finora una gara di campionato, l'11 ottobre, ha battuto l'Eni 6,77 a 68, poi ha giocato questa nuova United League, questo campionato che mette insieme i paesi dell'est Europa, perdendo con lo Jalgeris con il punteggio di 75 a 69. Dentro Giddens, canestro e fallo per l'ex Celtics Enix, il fallo è di Langford e il Procom si riporta a Minotto in attesa del tiro libero del giocatore americano. Sì, Giddens è un bel giocatore, gioca un pochino da solo, questo è da vedere se gioca da solo perché lui gioca in questo modo o perché è appena arrivato e quindi non conosce ancora bene gli equilibri della squadra e si fida più delle proprie qualità. Dell'ex giocatore dell'università di Duke, poi Videnova con il palleggio, vediamo se Varda riesce anche a segnare dalla distanza, sbaglia, molto bravo però Giddens a volare molto alto. Il campo perché ha intensità difensiva e ha neanche un buon rimbalzista, sta viaggiando a otto rimbalzi, qua attacca il ferro, qua trova anche un po' di fortuna sicuramente. Giddens che fa il suo ritorno in campo per questi ultimi 3-23 di partita, ha messo che non ne servono 5 in più, palla persa malamente, Dal Kim che ci prova subito per i 3 punti, Ewing non trova il bersaglio, c'è Jard Giddens, tappi in schiacciato, meno 3 Procom. Anche i numeri davvero da NPA dell'ex giocatore di Celtics Enix servono a tenere in partita i polacchi. Ma Langford un po' molle su questa ricezione, forse non si aspettava questa pressione, palla rubata e grande.